La consegna della lettera che indisca Brexit nelle mani del Presidente del Consiglio Europeo, Tusk, è solo il primo passo importante, simbolico, ma anche molto formale. La sostanza delle relazioni future tra UE e Regno Unito è tutta da scrivere. Ci vorranno due anni per farlo. E cosa si tradurrà davvero Brexit? Cosa succederà adesso? La Premier britannica Theresa May ha chiarito qualche punto alla BBC. Prima di tutto i 50 miliardi di euro, fondi per programmi europei, fino al 2020 che Londra, prima di Brexit, si era impegnata a investire e a cui Bruxelles non vuole rinunciare. Stiamo parlando di una tassa di uscita che l'Unione Europea ci sta chiedendo. C'è stata molta speculazione. Attualmente non c'è una richiesta formale, dato che i negoziati non sono ancora iniziati. Io so bene quel che si aspetta la gente qui nel Regno Unito, ma ho anche chiaro che siamo uno Stato che rispetta il diritto e rispetteremo i nostri obblighi. Altra questione divisiva è quella dei futuri accordi commerciali tra Gran Bretagna e UE. Credo che quello per cui lavoreremo e quello che otterremo sarà un buon accordo commerciale di libero scambio. Vorremmo che fosse senza frizioni, con tariffe libere alle frontiere, in modo che possiamo continuare i nostri commerci con l'Unione Europea. Ma su questo punto Angela Merkel è stata categorica, prima il divorzio, poi i futuri accordi commerciali. La questione si intreccia con quella, cruciale, del trattamento dei cittadini comunitari. Quali restrizioni porrà Londra? Certo è che in questo cammino verso terra ignota, blind leading the blind, cieco guida cieco, come recita un detto inglese.